Siamo in compagnia di Paolo Spinelli e vedo che alle tue spalle c'è qualcosa di veramente curioso e di storico. In effetti è così. Siamo in presenza di questo particolare esemplare, il suo nome è Christine, ovviamente è un soprannome, che si tratta di un dinosauro, è presumibilmente una femmina, dico presumibilmente perché in base a degli studi che sono stati fatti sulle ossa, sulla conformazione del cranio, è stato appunto presunto che si tratti di una femmina. È un giovane esemplare, in quanto questo tipo di esemplari riuscivano a raggiungere fino ai 9 metri di lunghezza e questo ne misura circa 5. È particolarmente interessante perché per il suo stato conservativo, in quanto ha una bassissima percentuale di restauro, quindi è quasi del tutto integro come fossile. Christine arriva dal Montana ed è qui grazie ad un accordo che siamo riusciti a strappare con la proprietà, appunto perché sfortunatamente l'oggetto non ci appartiene, se non per un periodo di tempo molto limitato. E appunto grazie a questo accordo siamo riusciti a portarla qui nel nostro spazio espositivo, ad Abano Terme, all'interno della collezione Mineral Center Museum. Basta rivolgersi al numero di telefono del nostro sito o al nostro sito e su prenotazione, su appuntamento, riusciamo ad organizzare delle visite. In futuro il progetto di un museo aperto al pubblico? Sì, l'intenzione è questa, ovvero quella di far diventare la collezione, la nostra collezione di minerali raccolta in tanti anni di fatica e di sforzi, soprattutto di nostro padre, e appunto di renderla fruibile a tutti. Speriamo che sia fattibile nel più breve tempo possibile. Speriamo che sia fattile.